Sevda Ergensi è diventato un antieroe nella serie tv Elkizzi. La serie Elkizzi, trasmessa il sabato sera sugli schermi della Fox TV, ha impressionato il pubblico con la sua storia. La serie, con Sevda Ergensi e Ismail Ege Sasmaz, è particolarmente seguita dal pubblico femminile. La ragione di ciò è che il personaggio di nome Ezzo mostra una forte posizione femminile. Il fatto che molti spettatori, che vogliono vedere donne forti sullo schermo, attribuiscano importanza alla storia di Ezzo, ha reso le valutazioni della serie sopra la media. Si sta lavorando intensamente sul set della serie, che continua a essere girata a Magla. Lo spettacolo Camera Arca si ha visitato il set della serie e ha condiviso le loro impressioni. Un lavoro meticoloso viene svolto nelle riprese, dove non mancano momenti divertenti. Inoltre, Sevda Ergensi, mentre descriveva il personaggio di Ezzo, ha affermato che è un antieroe. L'attrice ha dichiarato, Ezzo è un antieroe. Questa è la mia parte preferita. Non è un personaggio unidimensionale buono o cattivo, ha attirato l'attenzione.